Le aree interne del Molise hanno necessità di nuovi investimenti per il rilancio di piccoli comuni alle prese con grossi problemi. Lo spunto ce lo offre la festa dei piccoli comuni della Valle del Volturno che si terrà il prossimo 29 maggio. È una festa che interessa quella valle ma che potrebbe interessare l'intero territorio molisano. Lo torniamo a ripetere, è anche un po' la scusa, la scusante, quello che ci dà un po' l'astura di riaprire questo discorso anche perché restano ancora fermi due provvedimenti importanti a livello regionale che riguardano gli investimenti proprio a favore delle aree interne. E quale più del Molise presenta aree interne visto è considerato che il 90% dei comuni sono considerati medio piccoli, quindi al di sotto dei 5.000 abitanti. Quindi è l'occasione, il momento con queste feste dei piccoli comuni ma soprattutto l'importante che la regione torni ad investire sulle aree interne. Ci sono i fondi, ci sono anche i progetti, c'è anche una progettazione più a monte, quella che era nata poi sostanzialmente qualche mese fa con la presenza anche del Presidente della Repubblica Italiana Mattarella che è stato qui all'università proprio per presentare la progettazione dell'Appennino. E quale più Appennino del Molise? Beh, ci sono tutti gli ingredienti per poter tentare di rivitalizzare queste aree interne che rappresentano, lo ricordiamo e lo sottolineiamo con forza, la maggior parte del territorio molisano, il 90% dei comuni, il 50% della popolazione molisana vive in questi piccoli comuni. E allora bisogna fare presto, prima che lo spopolamento di queste aree diventi veramente inafferrabile e soprattutto possa provocare disagi sociali ancora più gravi di quelli che in questi momenti, in questi giorni, in queste settimane si stanno avendo proprio a causa dello spopolamento delle nostre zone.